Il premio di laurea in memoria di Neda Aga Soltan è stato assegnato quest'anno alla studentessa di Caneva Eleonora Boscariol, che alla Facoltà di Lingua e Letterature Straniere di Udine ha presentato la tesi Off the Beat and Track, donne oltre le mura domestiche, in viaggio verso Venezia, un'analisi su come le donne si sono conquistate il diritto al viaggio. Il premio, giunto alla terza edizione, è stato istituito in memoria di Neda Aga Soltan, la studentessa, vittima della violenza repressiva del regime, è simbolo della lotta iraniana per la libertà ed è destinato alle neolaureate che hanno sostenuto una tesi sulla condizione della donna nella società. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, ha evidenziato il concetto del diritto stigmatizzando le polemiche sorte per la visita del ministro Cecil Chienghe, mentre l'assessore comunale, Flavia Rubino, ha comunicato che il premio sarà esteso a livello nazionale. Il premio Neda viene dato ogni anno dal comune in associazione con Neda Day, con l'associazione Neda Day, a un tema che si sia distinto nell'ambito della parità uomo-donna, parità femminile. Le ricordo che il concorso era nazionale, ma la ragazza si è diplomata a Sacile e laureata a Udine con 110 e lode. Trattava in particolare dell'emancipazione della donna attraverso il viaggio, quindi un tema particolarmente significativo e noi siamo particolarmente contenti che sia anche proveniente dal nostro territorio.